Da mercoledì 15 novembre il mercato settimanale di Poggiardo ha subito uno spostamento e riordino. Alcuni ambulanti sono stati ricollocati su Viale della Repubblica e su Viale Capreoli, nel tratto stradale compreso fra via Oberdan e via 24 Maggio, una scelta dell'amministrazione fatta per mantenere il mercato nel centro urbano e completare il documento strategico del commercio sua Repubblica. Ma gli ambulanti spostati nella zona della stazione ferroviaria sono preoccupati poiché gli affari non sembrano andare bene registrando un calo delle vendite. Proprio oggi stamattina è successo un spiacevole episodio, un signore che abita sulle palazzine si è lamentato perché con i parcheggi non riescono bene ad uscire da casa, poi la realtà è questa, c'è poca gente arriva di qua, di là dove stavamo prima con la piscina c'erano molti più parcheggi che potevano usufruire del parcheggio e arrivare in prossimità del mercato direttamente sul posto. Queste sono le principali problematiche, come vedete i viali già a quest'ora sono vuoti, fate voi, prima di ogni cosa comunque un comune dovrebbe informarsi pure sugli operatori le problematiche quale sono perché da un giorno all'altro, da una settimana all'altra ci siamo trovati spostati qua di nuovo. Vorremmo ritornare perché come ti ho detto il problema dei parcheggi, la gente poi ha un ampio spazio per parcheggiare sulle piscine, quindi si trova molto più comoda e non intralciamo il traffico nel centro, questo sia bene per noi che per loro secondo me. Intanto dal comune promettono un interessamento al problema e nei prossimi giorni incontreranno i diretti interessati per cercare di trovare presto una soluzione. Questo ha rasserenato per il momento gli animi degli ambulanti.